Wabalaba dub dub, bentornati su No Mamamazzo. Siamo di nuovo nella rubrica Buffy, L'Ammazza Vampiri, parliamo del reboot a fumetti, parliamo del numero 3 edito in Italia da Salda Press, creato ovviamente da Joss Whedon, di Jordi Blair, David Lopez e Raul Angulo, spero di averlo pronunciato giusto, titolo del volume Dal Profondo. Vi ricordo che, come ho già detto anche, come ho anche già citato nel numero 15 di Samuel Stern, Dal Profondo lui divora. Lui chi? Se lo sapete scrivetemelo nei commenti. Prima di cominciare iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, anche delle altre playlist che vi frega, condividete il video con tutte le persone che potrebbero essere dei vampiri e attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno d'ora in poi e commentate qui sotto con quello che ve ne è parso di questo volume. Iscrivetevi anche agli altri miei social che vedete qua di lato in modo da rimanere aggiornati sulle mie prossime uscite. Buffy volume 3 dal profondo. Se seguite la mia rubrica in cui parlo del reboot di Buffy l'ammazza vampiri, sapete più o meno queste cose di me. Che conosco Buffy a menadito, conosco tutta la serie tv a fumetti, conosco lo spin-off Angel, li adoro entrambi ovviamente, conosco la prosecuzione ufficiale a fumetti della stagione 8 e 9 di Buffy e della stagione 6 After the Fall di Angel e poi dello spin-off Angel e Fate che non credo abbia una stagione, poi anche Will o Spike, mi mancano ovviamente le stagioni non pubblicate in italiano che sono la stagione 10, 11, 12 di Buffy a fumetti, poi Buffy a fumetti si è conclusa anche nel fumetto nella stagione 12, a quanto ne so, e ora hanno fatto il reboot, il reboot ambientato ai giorni nostri. Del reboot ambientato ai giorni nostri dovreste sapere che il primo numero mi è piaciuto, mi ha convinto, il secondo numero invece mi ha deluso, mi ha deluso particolarmente per una cosa che è successa a Xander, non tanto perché è uno dei protagonisti, quanto perché è una cosa che non dovrebbe succedere nella Bibbia, nell'universo di Buffy, nel Buffy verso, è una cosa che non dovrebbe succedere, è come se nel mio universo a un certo punto io verso un bicchiere d'acqua e va verso l'alto anziché verso il basso, non dovrebbe succedere, quindi è per quello che nonostante il reboot è una cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso, però vabbè, ho comunque preso lo spin-off sempre incartonato, 19 euro sempre incartonato di Angel, perché mi piace Angel, me lo sono goduto, mi è piaciuto anche quello, quindi ho avuto un po' di alti e bassi, ho preso quello che è stato il primo crossover tra Angel e Buffy, ambientato un pochino dopo il numero 2 di Buffy, un pochino dopo il numero 1 di Angel, ma anche un pochino dopo questo numero, quindi leggendolo ci siamo anche fatti dell'autospoiler. Quel numero è tornato a non convincermi troppo, ma un po' anche per la pubblicazione un po' così, un po' birichine diciamo, un po' chiama acquisti per questo numero, perché per la storia in sé non mi è dispiaciuto, un pochino il fatto che comunque Angel e Buffy si sono conosciuti in modo un po' così, come se Angel fosse già in attività, perché questo Angel del reboot è già in attività, ma poi andatelo a vedere nel video specifico in cui ne parlo, e qua invece siamo effettivamente al numero 3 di Buffy. Cosa è successo finora? Che finalmente il villain di turno, che è Drusilla in tutto e per tutto, la villain è Drusilla, una cattivissima Drusilla, ha aperto la bocca dell'inferno. Abbiamo anche visto il sigillo, quello che si vede solo nella stagione 7, lo abbiamo già visto, ha aperto la bocca dell'inferno, la bocca dell'inferno si è aperta con molta calma, quindi non è che siamo sprofondati, Sunny del non è sprofondata nell'inferno, però iniziano a vedersi alcune crepe, escono alcuni geyseri di fuoco, la gente è sempre più cattiva, sono tutti arrabbiati tra di loro, lo vediamo, mi piace anche come la storia parla di relazioni che finiscono, di relazioni che finiscono con la rabbia anche, lo vediamo nel rapporto tra Jais e Gianni Callendar, lo vediamo nel rapporto tra Rose e Willow, lo vediamo nel rapporto, anche piccolino, tra il rapporto di amicizia, tra Willow e Xander, nel rapporto tra Giles e Xander, quindi mi piace questo filo conduttore che lega tutte le sottotrame, questa è stata una sceneggiatura davvero bella, che appunto tratta il tema di quando qualcosa, un'amicizia, un amore, finisce e finisce male. questo tema mi è piaciuto molto, cosa non mi è piaciuto? Ovviamente quello che un po' già sapevo io avendo letto il crossover, ovvero, ragazzi, faccio spoiler adesso, quindi se non avete letto il crossover, se non avete letto questo, ovviamente io vi farò spoiler, quindi aspetto un attimino che mettete pausa, e per quanto io sia contento che vogliate vedere questo video, se non volete farvi spoiler, schippate, saltate, andate, guardate qualcos'altro, sempre di mio ovviamente, e noi ci rivediamo in questo video quando siete pronti, quando lo avete letto, ok? 3, 2, 1. Ora, quello che non mi è piaciuto è quello che già sapevo dal numero crossover, ovvero la morte di Xander, però non sapevo nient'altro, ho solo intuito che Xander ci avesse lasciato le penne, perché quando chiedono cosa è successo, non so se Will o chi per essa, scuote la testa come per indicare che non è sopravvissuto alla battaglia, non è sopravvissuto all'apocalisse. Quello che vediamo in questa storia, appunto, è la storia in parallelo a quello che sta vivendo Buffy. Buffy nel crossover è entrata nella bocca dell'inferno, quindi è andata su un altro piano, su un'altra dimensione, che ipoteticamente è sottoterra, è un portale sottoterra, ma in realtà è in un'altra dimensione, così viene spiegato anche come in realtà non sia nel centro della Terra la bocca dell'inferno, ma appunto tecnicamente è su un altro piano temporale. Così facendo è come se fosse passata a miglior vita, quindi senza morire, come abbiamo visto nella stagione 1, morsa dal maestro e clinicamente morta per qualche minuto, quindi senza passare da questo stato di morte, semplicemente entrando nella bocca dell'inferno, lei è passata in un altro piano temporale, quindi tecnicamente per la Terra non c'è più una cacciatrice, quindi si è attivata una nuova cacciatrice, che comunque abbiamo già visto nel crossover. Abbiamo già visto che è Kendra, nel crossover non la chiamano per nome, però vediamo che è di colore, ipotizziamo che possa essere Kendra. Qui scopriamo tutti gli altarini. È Kendra, è un po' meno sprovveduta della Kendra del telefilm, quindi non viene proprio da un mondo di lance, caccia ai vampiri vecchio stile, un mondo dove viene educata come una fanatica, ammazza vampiri, un pochino sì, però è un po' più sgamata, sa più o meno le regole del mondo moderno, del mondo occidentale, e scopriamo che ha un osservatore che non è lo stesso di Buffy, perché dovete capire, perché molti fanno questo errore, l'osservatore non cambia in base alla cacciatrice, ok? Nel telefilm Giles è sempre stato l'osservatore di Buffy, quando è arrivata Kendra, Giles era l'osservatore di Buffy e Kendra. Kendra aveva un osservatore che l'aveva addestrata anche prima che diventasse cacciatrice, perché nel suo paese d'origine funziona così. L'hanno mandata alla bocca dell'inferno e Giles si occupa di entrambe le cacciatrici. Tant'è che quando poi è arrivata una, nella stagione 3 è arrivata l'osservatrice di Fate, in realtà era un demone, era una trappola, era un inganno. E quando è arrivato Wesley, Wesley non era l'osservatore di Fate, Wesley era l'osservatore di Buffy e Fate, perché Giles era stato licenziato dal Consiglio. Questo piccolo rifuso, questo piccolo errore, lo hanno fatto anche in Angel stagione 1, dove Fate dice, quantomeno nel doppiaggio italiano, poi non sono stato a riascoltarmi in inglese, dice, ah, secondo te sarebbe andata meglio se io fossi stata guidata da Giles e Buffy da te. In realtà questo non è successo, Wesley ha guidato entrambe male, perché era le prime armi, però questo è un altro discorso. Chiusa parentesi, questo perché ve lo dico? Perché invece qua in questa realtà, in questo altro universo, ogni cacciatrice ha un suo osservatore, e l'osservatore di Kendra, niente popò di meno, è che Robin Wood, la versione reboot a fumetti di Robin Wood, che è coetaneo di Buffy, quindi non è poco più grande e non sarà il preside della nuova scuola di Sannidale, ma è semplicemente un suo compagno di classe. Scopriamo quello che già potevamo sperare e intuire, ovvero che anche questo Robin Wood aveva una madre che era una cacciatrice e che evidentemente non c'è più, e che lui si è addestrato tutta la vita per diventare un cacciatore di vampiri, però si sa la cacciatrice, The Slayer, non The Hunter, The Slayer, quindi l'ammazza vampiri, è una prescelta, è una lei, non è un maschio. Robin Wood non può diventare un ammazza vampiri, non può avere la forza fisica di un ammazza vampiri, lui ciò nonostante si è allenato tutta la vita per cacciare i vampiri, e è molto triste, nei suoi 16 anni non accetta questo, non accetta di non essere stato scelto dal Consiglio, però il Consiglio non l'ha scartato del tutto, lo ha fatto diventare osservatore di Kendra, che invece è un po' alle prime armi. E' bello vedere questo stranissimo rapporto, vediamo comunque un Robin Wood sempre più irritato, che ci fa intuire fino al terzo atto, diciamo, di questa storia, cosa già potevamo percepire dagli altri litigi, perché sembravano un po' troppi litigi, un po' troppo innaturali, specialmente vedere Giles così nervoso sembrava un po' troppo innaturale, per noi che conosciamo Giles, per quanto questo possa essere un Giles di un reboot, mi sembrava un po' fuori di sé, e scopriamo che succede così, perché appunto c'è questa entità, questa madre infernale che abbiamo visto nel crossover, che è talmente potente che la sua influenza riesce a dominare i suoi uomini, infatti lei anela un esercito di uomini, badate bene, un esercito di uomini, inteso non come mankind, come dicono nel Signore degli Anelli, la razza degli uomini, no no, maschi, maschi con l'utestosterone, se ci fate caso, tutti questi, diciamo, posseduti dalla madre infernale sono appunto uomini, persone di sesso maschile, tant'è che tutta la squadra che poi nel crossover arriverà in pompa magna a cavallo del pipistrello enorme che è diventato amico di Buffy, tutta questa squadra è composta da ragazze, infatti è composta da Willow, Rose, Cordelia, Anya e Kendra, scrivetemi qui sotto se ho dimenticato qualcuno, ah sì, Jenny Calendar probabilmente, se non sbaglio, di questa squadra, in questo numero, oltre a tutte queste donne, vediamo un solo maschio e forse per la prima volta potrebbe esserci una giustificazione per cui Xander non viene soggiogato dal male, ovvero perché lui è un mezzo vampiro, questa è la cosa che non tollero, perché non esistono i mezzi vampiri nell'universo di Buffy, se ti mordono o schiatti o diventi un vampiro, i mezzi vampiri non ci sono, anche perché già dovremmo sostenere prima o poi il fatto che c'è già un vampiro anomalo che è Angel che è un vampiro con l'anima, se poi dovremmo sostenere più avanti anche il fatto che ci sarà un secondo vampiro con l'anima che potrebbe essere Spike, sarebbe davvero strano avere anche un mezzo vampiro, se poi dovremmo anche sostenere Connor che è un Dampir che è un figlio di un vampiro che però in questo universo di Buffy non esiste perché vampiri non possono avere figli nell'universo o quantomeno quello del telefilm, è un po' strano, è un po' inconcepibile, è un po' pesante da digerire. Qua finalmente sembra che abbia un senso che Xander non sia un essere umano perché la sua metà senza anima è tranquilla e tutti temiamo che sia perché stia andando verso la sua vera natura di vampiro, invece no, è semplicemente perché la sua metà vampiresca non è controllata dalla Madre Infernale, mentre la Madre Infernale controlla dalle anime maschili e quindi quando Xander si rifugia nel suo lato umano rischia di essere manipolato dalla Madre Infernale, seppure la sua anima non è la sua anima ma è mezza anima di Willow, tant'è che anche Willow si sente un po' strana da parecchio tempo, sente di star cadendo in quello che è il suo lato oscuro, lo vediamo che è un riferimento alla Dark Willow, tant'è che ha un ciuffo di capelli neri e non si è certo tinta e perché non riesce bene a controllare questo mondo in cui si è addentrata da quando ha cercato di salvare Xander. Qui Xander con un incantesimo che non si capisce molto bene perché c'è Anya che controlla, spiega un po' le cose, coordina un po' la squadra e dice a Xander di sacrificarsi per salvare Willow, però non è spiegato molto bene cosa succede, semplicemente Xander ridà la sua mezza anima a Willow, alla legittima proprietaria, quindi si presuppone che Willow per ora non diventi cattiva, non diventi una strega cattiva, non diventi la Dark Willow, torni a essere una Willow che in teoria dovrebbe anche riuscire a gestire i suoi nuovi poteri di strega. Per quanto riguarda invece Xander, senza la sua anima appunto o soccombe o diventa un vampiro, quindi non sappiamo se è diventato un vampiro e lo hanno polverizzato o se è semplicemente morto oppure se lo vedremo più avanti come cattivo, questo non lo sappiamo, però già nel crossover ci hanno fatto intuire una cosa, ci hanno già mostrato altre realtà, altre realtà dove per esempio non è Buffy l'ammazza vampiri ma Buffy è l'amica di infanzia di Xander e Willow arriva in città in qualità di ammazza vampiri. chissà che non ci sia anche qua uno scontro di realtà dato che ormai va tanto di modo al multiverso anche troppo perché è un po' stufato però vabbè va tanto di modo al multiverso quindi chissà che non prendano l'Oxander di un altro universo per riunire la squadra. Non lo so, mi sembra un po' forzato, mi sembra un po' che abbiano scusate il francese cagato fuori dal vaso rendendo un personaggio così fondamentale come Xander un vampiro per poi eliminarlo dopo tre numeri e quindi privare la squadra di un personaggio così fondamentale così fondamentale anche nella sua umanità perché la forza di Xander era che lui era l'umano del gruppo lui era il cuore del gruppo era quello che vedeva le cose e le capiva e non c'è più potrebbe essere sostituito con Robin ma non è la stessa cosa ragazzi non mi può piacere mai del tutto questo reboot con queste premesse vogliamo essere venali? vogliamo parlare dei soldi? ok sono 98 pagine perché davvero io non conto le pagine dove ci fanno vedere tutte le fan art tutti gli sketchbook tutte queste cose qua io non le conto perché ok sono belle da vedere però non è storia ok queste cose belle le posso vedere su un sito internet voglio vedere un fumetto quindi escluse quelle sono 98 pagine all'incirca come un Dilan Dog ovviamente un Dilan Dog costa 4 euro che è in bianco e nero qua parliamo di colori parliamo di copertina rigida quindi sono è un prezzo economico per quello che è però 20 euro per 98 pagine di una storia che non mi sta piacendo ho preso 1 2 3 4 numeri ragazzi mi sa che ci salutiamo qui mi sa che io non farò la recensione del prossimo numero tra l'altro ho scoperto che uscirà anche un nuovo spin off che è dedicato a Fate anche perché come ho già detto Buffy entrando nella bocca dell'inferno ha fatto nascere ha fatto attivare una nuova cacciatrice che è Kendra Kendra nel crossover entra nella bocca dell'inferno quindi non fa altro che attivare un'altra cacciatrice che sarà Fate chiusa parentesi quindi sappiamo che arriverà anche Fate lo sappiamo già abbiamo fatto 2 più 2 potrebbe piacermi potrebbe entusiasmarmi vedere questa Fate ambientata nel 2020 quindi magari quello lo recensisco però non so davvero se continuare è molto probabile che il prossimo numero me lo direte voi se vale la pena di prenderlo scrivetemelo qua sotto nei commenti non lo so davvero per quanto mi piaccia Buffy per quanto mi piaccia Angel e tutti i comprimari non lo so cioè raga non mi convince non mi sta convincendo come speravo piuttosto io investo i miei soldi e vado a comprarmi la stagione 10, 11 e 12 in inglese e mi leggo quelle e vi faccio la recensione delle stagioni a fumetti che magari voi non avete visto di Buffy fatemelo sapere cosa preferite farò magari anche un sondaggio su Instagram quindi seguitemi su Instagram così ne parliamo insieme quindi sono un po' deluso un po' deluso da questo numero mi dispiace speravo che questo numero mi avesse riportato mi riportasse un po' la passione al talenante che ho avuto e invece l'ha riportata verso il basso quindi un po' deluso per questo motivo qua ovviamente i disegni sono molto belli un po' strani un po' diversi dal solito sono un po' più fumettistici però mi sono molto piaciuti ovviamente io sono figlio dei comics americani quindi che vedevo di questo tipo di tavole a me fa impazzire però se volete faccio un video a parte per le tavole lo metto qua sotto in descrizione appena è pronto quindi se non lo vedete ancora il link magari ci tornate tra una settimana e lo trovate pronto oppure lo vedete nella mia Instagram TV sul mio Instagram così ci concentriamo lì solo sul disegno fatemi sapere cosa ne pensate io ho sproloquiato tantissimo come sempre ma probabilmente appunto è l'ultimo video dedicato a questo reboot quindi ho voluto dilungarmi un pochino di più io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video